... Moderatore Bernardini, l'ultima discussione qui al TAR del Piemonte sulla riapertura o meno dell'ospedale Valdese, una discussione molto lunga, anche molto partecipata, qual è la sua impressione? Molto appassionata, anche tra i giudici amministrativi c'erano due donne che avevano una particolare attenzione alle tematiche in discussione, in particolare per il fatto che uno dei due ricorsi discussi oggi riguardava il ricorso di 70 donne e pazienti dell'ospedale che sono state abbandonate a loro stesse per mesi e mesi fino a quando la riorganizzazione del settore senologico un po' è ripartita e quindi hanno avuto una risposta. Si è trattata di una discussione di merito, come dicevo, appassionata. La difesa della regione è stata una difesa risibile, inconsistente, perché obiettivamente è inspiegabile razionalmente la decisione di chiudere questo ospedale anche dal punto di vista economico. Si è trattata con ogni evidenza di una aggressione politica che è stata fatta verso una parte della sanità piemontese con lo scopo di dimostrare che la giunta Cota era una giunta che faceva e non soltanto parlava. Il risultato però della loro riorganizzazione che in parte tra l'altro poi è stata bocciata dalla stessa maggioranza precedente dimostra sotto gli occhi di tutti i cittadini che non hanno risolto né la necessità di risparmiare né la necessità di dare le cure assistenziali. Ora siamo in attesa della sentenza, ci vorranno ancora un po' di giorni e poi decideremo come procedere. E' fiducioso che ti essi fatto della discussione? Un tribunale è sempre un tribunale, i giudici sono sempre dei giudici, questo per di più è un tribunale amministrativo, quindi ha un campo di azione molto specifico e quindi francamente non so. Io però, come ho già detto, se avremo una sentenza a nostro favore naturalmente avremo più forza per ribadire la necessità di riaprire l'ospedale Valdesio di Torino, ma anche se avessimo una sentenza avversa su queste questioni strettamente amministrative, di merito amministrative, credo che comunque ci sarebbero ottime ragioni per sedersi a un tavolo con la Regione Piemonte per vedere che cosa si può fare, più che per l'ospedale Valdese, per i cittadini piemontesi, per coloro che abitano in questa Regione e che necessitano di servizi sanitari pubblici.